Grazie a tutti. La bocca di Paneficio San Francesco, una bella vittoria e rimonta, tre punti fondamentali per il vostro cammino. Sì, erano fondamentali questi punti anche perché le altre squadre hanno vinto tutte quelle che sono due due di noi, quindi di conseguenza era importante, anche se abbiamo sottovalutato la squadra con cui stavamo giovane. Ma cosa pensi del gol di Giuseppe Anzalone? È una cosa clamorosa? Sì, sì, credo che se lo farò altre dieci volte questo tiro non gli riuscirà, sicuramente questo gol è bellissimo. Va bene, grazie Enzo, buon serato.